C'è la pausa per le nazionali e possiamo analizzare sia quello che sta succedendo con gli azzurri che naturalmente ci può stare nel corso di un'intera stagione post-europeo. Due battute quasi a vuoto perché naturalmente i due pareggi in vista delle qualificazioni mondiali in Qatar non sono due pareggi arrivati sia in maniera esaltante ma allo stesso tempo non possiamo definire due buoni punti. Soprattutto quello con la Svizzera ha dimostrato ancora una volta che l'Italia o va al 100% oppure facciamo fatica a raggiungere degli obiettivi. L'europeo è la dimostrazione, l'Italia è andata al 101%. Però in questo spazio dedicato agli amici di YouTube che seguono il canale di Sport Italia è giusto approfondire delle tematiche che vanno probabilmente al di là della nazionale soprattutto per analizzare il ritorno al campionato che ci sarà settimana prossima, questa settimana, questo weekend. Ne abbiamo parlato tanto su Sport Italia in questi giorni anche con la fine del calciomercato. È stata una sessione estiva tornando ovviamente a quello che è stato ma soprattutto in ottica di quello che dovrà essere. È stata una sessione estiva estremamente negativa per le italiane perché in questo campionato non ci ritroviamo rispetto allo scorso gente come Conte, come Akimi, come Donnarumma, come Lukaku ed è inutile negarlo, come Cristiano Ronaldo ovviamente, è inutile negarlo che questi personaggi portavano anche a PIL al sistema del calcio italiano. Oggi abbiamo dei problemi analizzando singolarmente le big ma se volete poi naturalmente bisogna approfondire anche il tema delle medio piccole. Partendo dalle big l'Inter è stata la società che ha lavorato con maggiore intelligenza ma non è una casualità perché non è una casualità perché quando hai un direttore come Beppe Marotta la dimostrazione è che lui può uscire da una situazione estremamente negativa quasi con qualcosa di positivo. Certo, se sostituisci Dzeko o Correa arrivano e prendono il posto di Lukaku o Inzaghi prende il posto di Antonio Conte sicuramente non può essere un qualcosa di positivo ma andava fatto, andava fatto perché l'alternativa era soltanto una. O la società va in grandissima difficoltà, vedete cosa è successo l'anno scorso, non pagavano neanche gli stipendi e quindi bisognava fare cassa, bisognava battere Monti e Gaggi, bisognava comunque incassare dei soldi, altrimenti la società davvero rischiava di non arrivare non a fine mese ma alla fine della stagione. Marotta è stato intelligente perché aveva tre opzioni. La prima, fare come Antonio Conte, me ne vado. La seconda, fare una conferenza stampa e dire non si può fare niente, questa è la situazione economica di Suning, dobbiamo arrangiarci. La terza, mettersi al lavoro e ragionare di idee per cercare di portare qualcosa di buono. Ripetiamo, Geico, Correa non sono giocatori paragonabili alla prima Inter, forse all'Inter è mancata una ciliegina ma capiamo le difficoltà. Però qui si è vista la differenza. Beppe Marotta è un direttore che anche nelle difficoltà se ne esce, usando un gioco calcistico, naturalmente palla al piede. Beppe Marotta ha dimostrato di essere la fortuna della Juventus e qui apriamo il discorso Juventus perché quando Andrea Agnelli ha iniziato a far muovere la macchina bianconera era con Beppe Marotta e la Juventus funzionava non solo perché ovviamente c'era dietro la famiglia Agnelli perché la Juventus cercava di rivolsa ma soprattutto perché aveva una guida nel calcio. Andato via Marotta la Juventus si è persa, andato via Marotta è andato all'Inter, Marotta è riuscito a trovare la soluzione ai mali dell'Inter. Ovvero riportare lo scudetto a Milano che già questo è stato un primo passaggio importante ma più importante del primo passaggio tricolore con Antonio Conte è quello di quest'anno. Vedremo ovviamente due partite non sono nulla per poter giudicare l'Inter, possiamo giudicare solo per quel poco che abbiamo visto e per il mercato che è stato fatto senza soldi, anzi le ha incassati con intelligenza per provare a fare qualcosa di importante. La Juventus invece si è privata con troppa facilità di Beppe Marotta perché un direttore che sia Marotta o che sia qualcun altro serve sempre, serve perché è la guida della società non solo per fare mercato ma quando arriva il momento di gestire la gestione del mercato è fondamentale così come è fondamentale la gestione della settimana. Pensate un po', oggi Agnelli alla Juventus è passato da Marotta a Paratici, da Paratici a Cherubini. Con tutto il rispetto, attenzione parliamo di Cherubini che è un grandissimo scouting, parliamo di Cherubini che è un grandissimo conoscitore di calcio, ma è reddice di Paratici e Paratici è reddice di Marotta. Ci siamo ritrovati alla Juventus con Agnelli, con Nedved che però purtroppo, dispiace dirlo, non ha dimostrato di avere quella forza che aveva in campo dietro la scrivania anche perché le dichiarazioni Pirlo resta, Ronaldo resta, non si muove, poi alla fine lasciano il tempo che trovano perché infatti la dimostrazione di quanto possano valere le parole di Pavel Nedved purtroppo è una dimostrazione lampante che è un dato di fatto, non sono servite a nulla e soprattutto non rassicuravano. Torniamo a Cherubini, Cherubini è un uomo di campo e uno scouting, si ritrova a fare il direttore generale barra direttore sportivo calcistico. Paratici ha fallito senza Marotta, Marotta non ha fallito senza Paratici, la Juventus senza Ronaldo non può pensare di sostituire Ronaldo con Ken che è un tuo 2000, lo avevi in primavera, lo hai mandato via, lo hai ripagato e adesso pensi che possa essere il sostituto di Ronaldo? Forse lo penso solo io, ma questo ci dice il mercato, è andato via Ronaldo, è arrivato Ken, non è arrivato più nessuno, doveva arrivare uno come Mauro Riccardi, non è arrivato, è rimasto Morata, ma è un'alternativa, Di Bala è il perno di questa Juventus e ancora non gli hanno rinnovato il contratto, hai preso Locatelli in mezzo al campo, hai impiegato due mesi, prima, durante il poste europeo, hai preso Locatelli, ma per fare la mezzala e non puoi non prendere il play in un centrocampo che faceva dei disastri inenarrabili con Pirlo, ma rieschia di farli anche con Max Allegri. Il centrocampo della Juventus è un centrocampo al 50%, Danilo non può fare il play, non può fare la mezzala, non può fare il centrocampista, deve fare qualcos'altro, Locatelli deve fare la mezzala, allora chi è il cervello di questa squadra? Non c'è, non c'era l'anno scorso e non c'è neanche quest'anno, si faceva il nome di Pjanic, ovviamente Pjanic, che poi è dato al Besiktas, non è quello che conoscevamo ai tempi della Roma e della Juventus, ma almeno era quella figura calcistica di centrocampista che serviva alla Juventus. Il Milan invece penso che abbia dimostrato di avere delle idee, il Milan va a prendere giocatori che probabilmente in pochi conoscono. Certo, l'ultimo giorno di mercato ti sei ridotto volendo prendere un trequartista nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli e invece cosa succede? Prendi Messias, attenzione siamo dei fan di Messias perché la sua storia è bellissima, perché giocava in eccellenza, poi giocava in Serie D, ha giocato a Gozzano, Chieri Casale, era vicino Torino, la Juventus non se ne ha accorto, il Torino non se ne ha accorto, non se ne ha accorto nessuno, se ne ha accorto il Crotone a qualche chilometro di distanza. Poi pagato 400.000 euro, insieme ad altri due giocatori, Evans e Petris, poi è stato rivenduto, prestito, diritto di riscatto, si può arrivare a 7-8 milioni in caso di riscatto. Il problema però non è Messias al Milan, va benissimo Messias al Milan, però per le ambizioni della squadra che deve fare la Champions League in un girone molto molto complicato, ti serviva il trequartista e anche il Milan chiude Monco, anche il Milan chiude senza una ciliegina, ha fatto un mercato intelligente, è vero, però manca sempre qualcosa. Il Napoli, fateci caso, cosa ha fatto? Nulla. Il Napoli non ha fatto nulla, ha preferito guardare e non fare, ma il non fare non sempre è un vantaggio. Spalletti sicuramente è un allenatore che almeno al primo anno e anche al secondo ti valorizza tutto, al doppio, al triplo, ma insegna un problema, insegna un problema perché devi risolverlo, perché non puoi mandare il tuo capitano, il tuo giocatore simbolo in scadenza dei contratti, è un problema per tutto l'anno anche se parliamo di un grande professionista e ci deve spiegare, a probabilità laurenti, perché non vuole discutere del rinnovo di Lorenzo Insigne, perché vuole troppi soldi? Già il Napoli ne ha dati tanti ad altri club, allora bisognerebbe anche analizzare questi aspetti per capire perché Insigne non merita il rinnovo, perché non merita una discussione di rinnovo. Le romane sono il punto di domanda, la Roma ha speso tanto, Murrigno è fatto sorpresa, la Roma può farci divertire, la Lazio ha fatto un bel mercato, ma anche lì è mancato, prendi un Bogano, hai preso Zaccagni, cioè Sarri gioca 4-3-3, sappiamo che gli esterni sono fondamentali per Maurizio Sarri, l'ha dimostrato al Napoli, l'ha dimostrato alla Juventus e tu gli prendi una seconda punto e un trequartista, lo adattiamo, certo tutto si adatta, ma fare un mercato in partenza da adattato ovviamente è un peccato per l'allenatore, in questo caso per Maurizio Sarri. Bassa classifica, lo Spezia e il Venezia, un mezzo disastro, Beto dell'Udinese può essere la grande rivelazione per tutti gli appassionati di fantacalcio, la Fiorentina ha fatto bene a non vendere Vlaovic, ma adesso deve rinnovargli il contratto, altrimenti rischia di portarsi in casa un problema serissimo per tutta la stagione. Il mercato del Torino è incompleto, il mercato della Salernitana che chiude con Frank Ribery è curioso, ma poi avremo delle realtà come l'Empoli, che sono realtà rodate, che in questo marasma generale potrebbero davvero fare la differenza. Ci vediamo presto su YouTube, ciao!